per finire di scaldarsi prima del torneo ufficiale di fifa 10 un amichevole importante tra ivano e fabio partita la squadra riconosciamo molto bene che vediamo sempre nelle fasi finali di questi tornei celsi e real madrid per cominciare settaggi del controller per loro pubblico delle grandissime occasioni vedo è il real madrid che batte da centrocampo attaccherà da destra a sinistra tocca questo primo pallone con sergio ramos che allarga per kk l'ex giocatore del mia che mette il ballone per i guain poi benzema entro per ronaldo trova subito la conclusione cristiano ronaldo prima azione corale del celsi ora recupera ancora il ballone disimpegno sbagliato siano real siano ronaldo era di rigore c'è balla larga sinistra per calo che vede lo scatto sulla fascia non serve il compagno ora lo serve è il francese mk che mette ancora il pallone per calo dietro per balla ha servito drogbara di rigore prova entrare di dio drogbani a terraparcia la difesa del real madrid che riparte con sette minuti di gioco ancora 0 a 0 principato cristiano ronaldo ancora cristiano l'ex centra avanti del match serenite mette il pallone per i guain lancio filtrante alto per riccardo dos santos leite isekson caca niente da fare per lui e allora recupera ancora il pallone il real madrid che attacca a sinistra con cristiano ronaldo dietro per shabby alonso suggerimento dell'ex liverpool ancora lui shabby non passa c'è sien pallone per lampard poi drogba nel calarga sinistra per calo e va a scattare ma sergio ramos ha capito tutto allora ancora cacca prova a impostare per il real madrid niente da fare per lui prova a ripartire il celsi la copertura di raul albiol è buona larga per sardio ramos dietro ancora per albiol quarto d'ora ancora 0 a 0 si va a sinistra da arbeloa altro ex giocatore del liverpool cristiano ronaldo mette per benzema dentro per cristiano ronaldo si fatto vedere benzema limite dell'area viene anticipato allora ancora il pallone per calù è stata buona l'interdizione di ballac in precedenza poi area di rigore per il real madrid messo giù il giocatore è calcio di rigore iguain steso in area di rigore calcio di rigore per il real madrid mi sembra giusto hai sbagliato tasto e allora calcio di rigore per il real madrid quando siamo al diciannovesimo minuto vediamo chi se ne incarica probabilmente lo specialista entra raul nel frattempo per iguain che sta infortunato lo specialista è cristiano ronaldo dal dischetto ronaldo contro check cristiano ronaldo col facile check fermo tra i pali real madrid 1 celsi 0 allora deve ripartire la squadra di blues con calù che mette il pallone per anel ca larga per drogba ancora dentro per il francese scarico sul lampard prova l'uno contro uno con arbeloa meglio l'ex difensore laterale del liverpool poi cristiano ronaldo per benzema stella cresciuta nel lione non riesce per ottenere questo pallone allora c'è peter c'è che va rilancio per bosinqua dentro per sien scambia centrocampo si fa vedere drogba va a fare la sponda per lampard ancora lampard vorrà andare via al vertice adesso l'area di rigore grande azione del celsi di die drogba questa è piaciuta è piaciuta meglio di un rigore allora calù ancora celsi che è pervenuto al pareggio e ora se la gioca però c'era il madrid che riparte con di arra cerchio centrale per xavi alonso allarga per arbeloa si conoscono bene vengono da grandi stagioni nel liverpool purtroppo me ne so qualcosa essendo un tifoso di un'altra squadra di milano che però non usa nessuno questo gioco a nel ca per drogba hai capito di chi parlo bravissimo hai vinto forse un gadget calù simbola sulla sinistra calù numeroso l'avversario entra in area di rigore calù la scarica dietro poi dentro pallone per lampard niente da fare e poi c'è l'uscita sicura di car casiglias 34 minuti sul cronometro dell'arbitro c'è sì uno real madrid 1 al rigore di cristiano ronaldo ha risposto di via drogba la sua freddezza in area di rigore ma vediamo cristiano ronaldo che entra in area di rigore dalla fascia sinistra prova a mettere il pallone in mezzo un po' di affanno per la difesa del celsi che poi riparte drogba cerchio centrale si appoggia da mk ancora livoriano serie di numeri poi pallone per nel ca che allarga il gioco a sinistra per calù anticipato da sergio ramos prova di testa girisce in mezzo ma non c'è niente da fare ripartenza ancora il celsi in avanti prova questo tocco drogba capisce tutto pepe fa ripartire al madrid cristiano ronaldo se ne va super la metà campo 42 minuti sul cronometro ancora cristiano prova il tocco sbaglia c'era bosingua su di lui poi alex molto buona lettura da parte di alex lui sbaglia tutto di dietro qua nell'appoggio allora riparte arbelo al palla per pepe sciabia non si allarga il gioco a sinistra per cristiano ronaldo che nel vivo dell'azione mente per benzema un gran destro preferisce il tocco in area di rigore ma non passa l'oracalù palla per col sale ashley col mentre l'arbitro fischia la fine del primo tempo grazie a tutti